Buon pomeriggio, al di là dei relazioni, come settore estero, in questa manifestazione sono venuti a trovarci i vertici della CEPICEI e la collega che rappresenta la liaison, quindi il punto di trade union tra FIIP e il NAR, la federazione statunitense. Quindi adesso li chiameremo qui sul palco, ci faranno un saluto e una relazione sul mercato a livello europeo e poi uno sul mercato a livello statunitense. Quindi abbiamo il piacere di avere Jens Uri Kiesling, presidente di CEPICEI, Claudine Spels, vicepresidente vicaria di CEPICEI, l'amico Manuel Negrao che già conoscete, sempre vicepresidente vicario di CEPICEI, e Gabriele Di Bianco, rappresentante di rapporti fra la FIIP e il NAR, l'associazione di agenti immobiliari statunitensi. Quindi adesso vi faranno un saluto i due vicepresidenti e poi lasceremo la parola a Jens che vi intera una relazione. Manuel e Claudine. Buon pomeriggio, cari colleghi, è seri un piacere essere qui con voi oggi. Grazie per l'invito. Ha detto che è meglio se parli in inglese perché non vuole assassinare la nostra lingua. So, I'm very happy to be here. I know all of you, so FIIP, it's a very important association for CEPICEI, and we are always counting of your support and your help to our business in Europe, that it's more and more important in the future. Paolo, a big thank you for you and thank you for all. Ha detto che anche se non vi conosce tutti, ma penso che avrete capito, ha detto che è molto felice di essere qua e che conta molto sull'appoggio a livello europeo di FIIP e ringrazio a FIIP e il presidente per averli invitati qui oggi a stare con noi. Good afternoon, I don't want to say something in Italian because I am not sure. Ok, I am very happy to be here with our president and our vice president. It is a big honor for me as past president CEPI and you to be active and to have the honor to work with my colleague to the success of our merger who happened in March 6. I am coming from Luxembourg, everybody knows Luxembourg, and I am very, very happy to be here today. Thank you very much. Mr. Paolo and to you, Raphael. Claudine ha detto già ci ringrazia anche di rapporti che aveva quando era presidente di CEPI, ha detto che è un grande onore essere qua e che spera che comunque lavoreremo bene assieme in il futuro. Lei viene da Luxembourg ed è molto contenta e ringrazia tutti per l'accoglienza. Adesso viene il momento della relazione da parte del presidente della confederazione europea CEPI-CEI di cui noi come FIAI performiamo parte. Presidente di CEPI-CEI, grazie a tutti. Dear Mr. President Paolo, dear Vice President Raffaele, thank you very much to invite me and my colleagues Claudine Spells and Manuel Negrao as presidency committee of CEPI-CEI to your midterm congress here in the wonderful town of Firenze. Okay, ringrazia il presidente e tutti quanti voi per aver invitato lui e il comitato di presidenza formato dalla signora Spells e da Manuel Negrao qui al nostro assemblea di metà mandato nella splendida città di Firenze. Let me give you a little overview about the new CEPI-CEI organization. After a long period of difficult negotiations we finally got the merger completed in March of this year. CEPI-CEI consists now of 33 organizations out of 23 countries. with approximately 300,000 professionals in the field of agent, brokers and property managers. La nuova federazione è composta da 32 organizzazioni di 23 paesi differenti e conta all'incirca 300,000 professionisti del settore immobiliare, agenti immobiliari, broker, amministratori di condominio. We, ladies and gentlemen, are now the voice in Brussels and can deal and lobby in the interest of our members. And you, ladies and gentlemen, are members of FIIP, you are part in Brussels now. What did we achieve so far? Because that's the most interest of you. We were heavily involved in the money laundering legislation. The real estate market is one of the key objectives where money laundering takes place. Our main concern was to keep small transactions out of the focus. Our achievement is that rental agents are not obliged to report their transactions. Allora, innanzitutto, vuole parlare di, eh, quello, i risultati concreti che sono stati raggiunti fino adesso, che sono quelli che interessano di più sicuramente tutti voi. Innanzitutto, siamo stati coinvolti nella legislazione sull'antiriciclaggio. Come sapete, eh, il settore immobiliare è uno di quelli maggiormente coinvolti nelle, eh, nella legislazione dell'antiriciclaggio. E, eh, uno degli obiettivi che si è data la CPJ è quello di fare in modo che le piccole transazioni non siano coinvolte, non siano, eh, diciamo, messe sotto il focus di questo tipo di legislazione. Review of the energy performance of buildings directive is another field we are looking at. Our PTC, under the chairmanship of our Polish colleague, Gregor Stobrovski, and the assistance of our policy analyst, Janet Griffiths, is working on a paper how the energy certificates, called EPCs, is affecting the mark in our countries and what could be done to ease our daily work with it. Allora, eh, per quanto per concludere sull'antiriciclaggio, abbiamo un risultato contrato che è stato raggiunto è che, eh, gli agenti non siano costretti a segnalare le negoziazioni che riguardano gli affitti. Un altro punto, invece, è quello sulla, eh, sull'aggiornamento della direttiva che riguarda la certificazione energetica degli edifici. Il comitato tecnico della CPCI, che è composto dal collega polacco Dobroski e dall'aiuto dell'analista politico Griffith, ok? Sta lavorando a, eh, un, un documento che riguarda il, l'impatto che il certificato di prestazione energetica ha sul, eh, lavoro che tutti noi svolgiamo quotidianamente e sul modo in cui si può premere a Bruxelles in maniera tale che venga semplificato il lavoro che tutti i giorni svolgiamo e che riguarda poi, eh, diciamo, l'acquisizione dell'indice di prestazione energetica. Upgrading the single market, the commission published in 2015 a work program that will announce a new internal market strategy. For the real estate business, which is part of the selected profession, it will affect the regulation of the professions. As you know, we have a big difference of regulation in most of our member countries. CEPI and CI is bringing its knowledge of the member organization into the discussion inside the European Commission and is trying to lobby in the benefit of our professionals. Ok. All'inizio di quest'anno la Commissione Europea ha pubblicato un nuovo documento per quanto riguarda il single market, quindi il mercato unico europeo, annunciando una, eh, nuova strategia per il mercato interno. Ovviamente anche il settore immobiliare è uno dei settori che è coinvolti nel, diciamo, che ricade sotto la, sotto questa nuova legislazione. Per il, diciamo, la materia è la regolamentazione della professione a livello nazionale. Ovviamente, come tutti voi sapete, ci sono delle, anche, eh, importanti differenze nella legislazione tra ogni Stato europeo. Quello che, eh, CEPI sta facendo è di, eh, diciamo, far pesare tutta la sua conoscenza, tutto le sue, il suo background, per fare in modo che, eh, diciamo, anche a livello europeo si giunga a un, un nuova, una legislazione che sia a favore del lavoro di tutti gli agenti immobiliari, quindi che vada incontro alle esigenze, eh, del, del mercato e di chi vuole intraprendere questa professione. Last but not least, CEPI-CI was one of the organizations who signed a letter to the president of the European Commission, Jean-Claude Juncker, to point out the importance of the real estate industry in the European market. Per ultimo, ma non per importanza, eh, CEPI-CI ha firmato un documento, eh, firmato da più organizzazioni, ovviamente, una lettera al presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, per, eh, evidenziare e sottolineare in maniera, eh, veramente pesante quale è l'importanza del settore immobiliare e dell'industria che ruota intorno al settore immobiliare a livello europeo, quindi per far sentire maggiormente la voce anche lì a Bruxelles a livello comunitario. Dear Paola, dear Raffaele, thanks for inviting us and sharing our thoughts with your organization. Thanks for FIAP, and I still remember our dinner together at Florence, no, at Venice, sorry, at Venice, when we discussed, eh, how we could sign the treaty for the merger. And, eh, FIAP is one of the keys to complete that merger, and I would like to thank you very, very much. Caro Paolo, caro Raffaele, eh, grazie a tutti voi per l'invito e ovviamente grazie alla FIAP. Il Presidente ricorda, eh, quando, eh, si è incontrato con il Presidente Righi a Venezia per discutere per la firma della FIAP, eh, alla fusione tra la CPC e sottolinea come il contributo di FIAP sia stato fondamentale per giungere anche a questa fusione. Quindi grazie a tutti voi. And thanks for translating. Allora, ovviamente il fatto che la firma dell'unione tra FIAP e la CPC sia venuta a Venezia è stato puramente casuale, sono certo che nessuno dubiterà di questo. quindi grazie ancora agli amici dell'Europa per essere stati qui e adesso passo la parola a Gabriele che dal cognome e dal nome capirete che è di origine italiana e quindi adesso ci terrà una relazione sul mercato immobiliare statunitense in italiano e quindi potremo vedere com'è la situazione dall'altra parte dell'oceano. Buongiorno, grazie Raffaele, grazie Paolo, grazie FIA per questa opportunità. Sono molto contento di essere qui, eh, per parlare dello stato del mercato immobiliare degli Stati Uniti. Ho scritto la mia presentazione in italiano, mi chiedo scusa se ci sono dei sbagli. Allora, vi darò un breve panoramica del mercato statunese a partire da un sguardo indietro alla crisi finanziaria e poi discutere lo stato attuale del mercato residenziale e commerciale. Sette anni fa il mercato finanziario degli Stati Uniti sono crollati e hanno portato i mercati immobiliari residenziali e commerciali giù con loro. I mercati finanziari sono crollati. Come risultato, le vendite di case sono cadute al livello più basso dal 1995. Nel 2008 solo 4,1 milioni di case sono stati venduti, una discesa di più di 40% rispetto al 2005. La caduta è stata così devastante che il mercato ha lottato per tre lunghi anni nel 2009, 2010 e 2011. L'importo del patrimonio netto casa, che è stato perso durante il crollo immobiliare, è stato stimato a 7 miliardi di dollari al punto peggiore. Questo è più che il prodotto interno lordo individuale di qualsiasi paese del pianeta, con eccessione degli Stati Uniti e la Cina. Questi sono stati gli effetti sconvolgenti e si sono fatti sentire in ogni ambiente dell'economia nazionale e mondiale. La fiducia dei consumatori è scesa ai minimi storici. La disoccupazione è salita al 10%. Sotto occupazione era più vicino al 25%. I pignoramenti delle case sono aumentati come i proprietari hanno visto il valore della sua casa sotto il prezzo pagato e non erano condizioni di pagare un mutuo a causa della perdita del lavoro. Allora, come abbiamo fatto per recuperare? I tassi di interesse sono stati mantenuti bassi. Gli incentivi agli investimenti di capitali hanno contribuito a migliorare il mercato del lavoro americano. Il prezzo del petrolio è sceso al 50%. Gli stipendi tenuti bassi hanno aumentato l'occupazione se non la soddisfazione. I standard di credito stanno diventando sempre più sensibili. Dopo l'incidente abbiamo perso qualsiasi 9 milioni di posti di lavoro, ma da allora abbiamo aggiunto 12 milioni di posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione è registrato sotto il 6% per 11 mesi consecutivi. Fino adesso, da 7 miliardi di dollari di equità ci sono stati persi, 5.500 miliardi sono stati recuperati. Tutto sommato, siamo pronti a mettere finalmente il ricordo delle crisi economiche del 2008 dietro di noi. Stiamo vedendo il progresso economico con politici intelligenti da parte dei regolatori governativi. La buona notizia è che oggi il mercato immobiliare sta attraversando un processo di recupero. Nel 2012 ci sono stati qualsiasi 4,7 milioni di case vendute, rappresentando un incremento annuale di 9%. Il progresso ha contenuto nel 2013 con crescita uguale, mentre nel 2014 ha visto un leggero slittamento delle vendite con rispetto al 2013, ha ancora superato il 2012. Quest'anno le vendite di case esistenti sono aumentate a 5,6 milioni di mesi di luglio, il massimo in più di otto anni. 2015 è stato l'anno migliore da quando la crisi. Il passo costante di creazione di lavoro ha dato il mercato immobiliare una spinta. A giugno vendite di case in attesa sono rimaste a livello di maggio, un alto di 9 anni. Le richieste di mutuo sono superiori di oltre il 17 rispetto al scorso anno. NAR Research prevede un aumento di 7% nelle vendite di case quest'anno. Questo significa che ci stiamo muovendo nella direzione giusta, anche se non è così veloce che vorremmo. Un altro segnale positivo viene dal prezzo mediano delle case. Da 2012 a 2014 il prezzo mediano ha salito a 208 mila dollari, rappresentando una crescita di 18%. Questo è il livello più alto dal 2007, prima della crolla. E a luglio il prezzo mediano di vendita è arrivato a 234 mila dollari, un picco storico. Si aspetta un aumento di circa il 7% per l'anno intero. Eppure ci sono alcuni problemi. La fornitura limitata continua ad essere un ostacolo. Gli affitti sono saliti alle stelle. Il passo della crescita dei prezzi di case sta superando la crescita del reddito, che potrebbe creare problemi di accessibilità. E la gente che cercano di comprare una casa per la prima volta sta lottando per salvare un acconto. Anche il mercato commerciale sta vedendo incrementi costanti, sia nei mercati grandi che i piccoli. I prezzi di vendita sono un aumento 7% con rispetto all'anno precedente. Le sfitte stanno abbassando per tutti i tipi di proprietà. La costruzione privata non residenziale sta crescendo a passo costante. Gli investimenti sono aumentati di fonti nazionali e stranieri. Gli Stati Uniti è stata una destinazione favorevole per gli investitori stranieri per anni. E non mi immagino che questo cambierà. I fondamentali della nostra economia rimangono forti. E credo che gli Stati Uniti rimarrà un rifiugio sicuro per gli investitori internazionali. Gli investitori cinesi, per esempio, stanno alla ricerca di un buon posto per investire i loro soldi in questi momenti. L'immobiliare è visto come un investimento sicuro di nuovo. Per il periodo da aprile 2014 fino a marzo 2015, il totale delle vendite internazionali sono stati stimati a 104 mila miliardi rispetto alla stima dell'anno precedente di 92 mila miliardi. Questo rappresenta l'8% delle vendite di case esistenti. Nel cinque paese hanno rappresentato il 51% di tutti gli acquisti da parte degli acquirenti internazionali, Cina, Canada, India, Messico e il Regno Unito. L'Italia si collocca numero 9 per i paesi in cui i consumatori sono più impegnati su Realtor.com e Realtor.com internazionali. I mercati top statunesi più ricercati dagli italiani sono New York, Miami, Miami Beach, Los Angeles e San Diego. L'Italia è attualmente il paese numero 2 più cercato su Realtor.com internazionale. Un modo più importante per crescere la sua rete globale è quello di partecipare alla conferenza ed expo di NAR per gli agenti immobiliari. La conferenza si fa ogni novembre. Quest'anno prevediamo 20.000 professionisti del settore immobiliare da oltre 60 paesi differenti. È una grande opportunità di conoscere professionisti del settore immobiliare da tutto il mondo e per aumentare la vostra rete di riferimento globale. Quando più ci colleghiamo uno con l'altro avremo più opportunità di successo nel business internazionale. Grazie. Grazie a tutti per l'attenzione. Adesso sapete che FIAIP per chi non lo sapeva oltre che essere molto attiva in Italia come più importante associazione di categoria è parte integrante e anche del comitato esecutivo dell'unica associazione europea perché adesso non esiste più le due associazioni CPCI ma ce n'è una sola che prende il momento. Al momento il nome è ancora CPCI ma poi lo cambieremo in qualcosa di più accattivante. E avete visto anche come il mercato immobiliare americano abbia reagito alla crisi. E quindi non può essere altro che un segno positivo del quale sarà l'andamento nei prossimi periodi di tempo per il nostro mercato. Grazie ancora. Grazie. 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 Grazie.